Musica Immaginate un grande e feroce toro che battendo con la zampa per terra riesce a far zampillare l'acqua fuori dal terreno. Ebbene c'è una leggenda secondo la quale Nardò sarebbe nata proprio così e questa fontana non è altro che la rappresentazione di questo racconto leggendario. Pensate che il toro è anche un simbolo degli aragonesi spagnoli e per un periodo dominatori del sud Italia che giunsero qui a Nardò proprio nella fase rinascimentale. Si tratta di un periodo in cui l'attenzione storico-letteraria è rivolta all'età classica. Viene riproposto il tema del mito nel quale il toro ha grande rilevanza e frequenza. Accanto alla fontana è poi presente un medaglione. Guardate, è inciso Tauro non bovi, ossia toro e non bue perché il toro è il simbolo della grande forza dei dominatori aragonesi o forse del popolo neretino. Ce lo insegna la filosofia, tutto scorre come questa freschissima acqua e come l'energia di questo toro che pervade ancora la storia e la leggenda di questo meraviglioso paese. Grazie. 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 Grazie.